Niente, allora sono sconcertato su questa sentenza del CONI, quindi ultimo grado della giustizia sportiva che ha dato ragione al Napoli e ha dato torto alla Juve e quindi si ricioca la partita e ci ridanno il punto cioè sinceramente io sono veramente spiazzato, in questo periodo di profonde incertezze viene meno l'ultima certezza del resto com'è, cioè con la vita e con la vita comunque la Juve aveva sempre ragione cioè ora non ne manca tutto questo, allora che è il mondo sotto sopra, ma ragazzi ma dove andremo a finire cioè allora non ci capite, la Juve è stata quella sera un'ora, un po' di campo, con l'umidità pure in Torino cioè comunque a ottobre c'è comunque c'è a fare freschetta, cioè sono stato un'ora allora con me, fratello, cioè adoro quello che hanno pensato, adoro un'esima proprio che fratello, cioè quasi ma è stato un'ora, un po' di campo, è così, e chi l'ha detto, un babbattone e babbasona per dire che è un senso buono, che è un ragazzo comunque che faceva terze, contento, ma non che è un'ora, che è un'ora, che per lui non è più certo, cioè trezze, che è proprio che il dedo a questi solissimi, solissimi, non può cambiare facile questo fatto, quindi ma ti dico, che è un ragazzo, pure solissimi, un ragazzo, ma non è più niente, non è più niente, non è stato ricevuto, raggio, per noi, cioè, è brutto, veramente è brutto Allora, l'unica cosa che uno si può confortare, e che può succedere ancora, è che, diciamo, nella partita che si giocherà a Torino, il coso si mette una volta come prima, nel senso che succedono certe cose, c'è questo equilibrio, pure con gli abiti, che li mettono a fare bene e fanno quello che hanno fatto, perché se no veramente si può, la partita è regolare, allora non mi hanno fatto bene, allora, allora veramente questo virus è cazzamuso, allora siamo a tenne, stai insinuando in te, e capra la gente, ma fosse la variante inglese, che è tra i capi che il rocone è fatto succedere malamente, e... è un cosciente, questo fatto